Adesso, visto che fra qualche minuto ci ritroveremo in una situazione, una sonnovità, l'uede reportiana, vorremmo suonare una composizione di un grande musicista che ha militato in questo gruppo e che è stato anche un mio punto di riferimento per quanto riguarda il basso elettrico, ed è Giacomo Pastorus. E questa composizione, vista la situazione, la vorremmo dedicare a un altro grande bassista che ha militato nel Uede Report, perché è il bassista che ascolterete fra un po' su questo palco. Il titolo della composizione è «Triview of the Secret». Il titolo della composizione è «Triview of the Secret». Il titolo della composizione è «Triview of the Secret». Il titolo della composizione è «Triview of the Secret». Il titolo della composizione è «Triview of the Secret». Il titolo della composizione è «Triview of the Secret». Il titolo della composizione è «Triview of the Secret». Il titolo della composizione è «Triview of the Secret». Il titolo della composizione è «Triview of the Secret». Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.